Guarda, il mio team rispetto all'arte secondo me ci ha che siamo tutti amici e comunque siamo un crew affiatato quindi prima di essere in agglomerato di artisti presi a casaccio siamo tutti persone che si conoscono. Noi abbiamo noi, loro non hanno noi. Non posso dirlo. Le palle. Ci divertiamo facendo le cose che facciamo, non so se tutti quanti team sono proprio così, chissà. È sicuramente un team composto da veterani e qualche nuova leva e c'è un sacco di esperienze in questo team.